benvenuti in questo nuovo video siamo al video numero 13 degli esercizi dedicati alla risposta al transitorio numero 56 per quanto riguarda la playlist dell'analisi circuitale abbiamo il circuito in figura dobbiamo determinare l'espressione della tensione ai capi del condensatore calcolare la tensione alla corrente per t uguale un secondo nel condensatore e la corrente minima sempre nel condensatore si consideri nulla la tensione nel condensatore per t uguale 0 secondi bene come nel video precedente la particolarità di questo video è la tensione generata da v con s questa è nulla per t meno di zero ed è esponenziale decrescente per t minore uguale a zero v con s di t uguale ea meno t significa che per t uguale a zero la tensione un volta e poi decresce esponenzialmente seguendo la legge e alla minuti per risolvere il circuito individuiamo il nodo a che è l'unico oltre a quello di riferimento che consideriamo questo e scriviamo la legge di kirchhoff delle correnti al nodo a potenziale del nodo a sarà anche il potenziale del condensatore in quanto questo è collegato appunto tra a e il nodo di riferimento individuiamo la corrente i1 che scorre in r1 la corrente i con c che scorre nel condensatore e la corrente i2 che scorre nel resistore r2 e quindi avremo correnti uscenti dal nodo a i con uno più i con c più i con due uguale a zero tutte dello stesso segno i con uno è uguale a tensione del punto a meno la tensione di v con s in quanto passando dal positivo negativo del potenziale del generatore questo decresce e poi meno zero che è il nodo di riferimento fratto r1 il con due sarà uguale a v con a meno zero fratto r2 in quanto ai suoi capi la tensione è quella del potenziale a e di quello di riferimento e poi la corrente nel condensatore che possiamo scrivere come c che moltiplica dv a fratto dt cioè la variazione appunto della tensione a della tensione del nodo a rispetto al tempo andiamo a inserire i tre elementi nell'equazione avremo v con a meno v con s fratto r1 più c per la derivata di v a rispetto al tempo più v con a fratto r2 e questa è uguale a zero sostituiamo le quantità che il problema ci dà quindi v con a meno e alla meno t fratto 10 ohm c è 0,05 farad cioè 50 mili farad ma fatemelo scrivere come un ventesimo di farad preferisco perché adesso elimineremo i denominatori quindi quindi un ventesimo di farad per la derivata di v a rispetto al tempo più v a fratto 20 ohm e questo è uguale a zero come detto eliminiamo i denominatori quindi moltiplichiamo per 20 minimo comune multiplo e abbiamo due volte v con a meno 2 e alla meno t più la derivata di v a rispetto al tempo più v a uguale a zero riduciamo abbiamo t v a su dt più tre volte v a portiamo il meno 2 e alla meno t al secondo membro e quindi uguale 2 e alla meno t sappiamo che la soluzione di questa equazione differenziale è del tipo v a di t uguale e alla meno p t integrale di q per e elevato a p t più k volte e alla meno p t dove p è 3 e q è 2 per e alla meno t sostituiamo abbiamo v con a di t uguale v con a di t uguale e alla meno 3 t che moltiplica 2 e alla meno t per e alla 3 t dt più k volte e alla meno 3 t uguale portiamo il 2 che è una costante fuori all'integrale e alla meno 2 che è e elevato a 2 t ricordo che stessa base si sommano gli esponenti d t più k volte e alla meno 3 t più k volte e alla meno 3 t ora l'integrale da calcolare è abbastanza semplice dobbiamo far comparire un mezzo in quanto l'esponente l'esponente è 2 t e poi e alla meno t più k volte e alla meno 3 t semplifichiamo e alla meno 3 t per e alla 2 t è e alla meno t e poi abbiamo k e alla meno 3 t quindi la soluzione è la somma di due esponenziali o anche combinazioni lineare dobbiamo determinare la costante k sappiamo che per t uguale a 0 questo è un dato del problema la tensione capi del condensatore è nulla ma questa è anche uguale a va e quindi 0 questo ci porta a scrivere che 0 è uguale a e alla 0 più k volte e alla 0 e alla 0 è 1 e quindi k è uguale a meno 1 quindi l'espressione della tensione ai capi del condensatore è uguale ad e alla meno t meno e alla meno 3 t quindi qui possiamo individuare la costante di tempo che è per questo circuito capacitiva ed è r equivalente per c ed è uguale a un terzo secondi ora il problema ci chiede la tensione ai capi del condensatore è un secondo quindi questa è banale è e alla meno 1 cioè 1 fratto e meno e alla meno 3 e quindi 1 fratto e al cubo vale a dire 0,318 volt oppure 318 millivolt ora ricaviamo la corrente nel condensatore questa la chiamo icon c di t questa è uguale a c volte la derivata di va rispetto al tempo cioè indichiamola sempre come un ventesimo per la derivata rispetto al tempo della funzione e alla meno t meno e alla meno 3 t abbiamo un ventesimo derivata di e alla meno t è meno 1 contributo dovuto all'esponente per e alla meno t meno meno 3 per e alla meno 3 t dove meno 3 è sempre il contributo dovuto all'esponente questo è uguale a meno 1 ventesimo e alla meno t meno per meno più 3 ventesimi e alla meno 3 t ora i con c di un secondo è uguale a meno 1 ventesimo per 1 fratto e più 3 ventesimi per 1 fratto e più 3 ventesimi per 1 fratto e questo ci dà meno 0,0184 più 0,074 cioè riscriviamolo a capo i con c di un secondo uguale meno 10,9 miliampere scritta appunto direttamente in miliampere ora il problema ci chiede di calcolare la corrente minima e quindi i con c di t minima è data dalla derivata di i con c rispetto al tempo e quindi la derivata della corrente rispetto al tempo è la derivata rispetto al tempo di questa espressione qui quindi di meno 1 ventesimo e alla meno t più 3 ventesimi e alla meno 3 t e questa come detto deve essere uguale a 0 da questa espressione ricaveremo il tempo e quel tempo andrà sostituito all'espressione della corrente per sapere appunto il valore di questa che sarà il valore minimo ora meno 1 ventesimo stiamo derivando l'espressione della corrente meno 1 per e alla meno t più meno 3 per 3 ventesimi e alla meno 3 t questo meno 1 e questo meno 3 sono dovuti rispettivamente alla derivata dell'esponente del primo esponenziale e dell'esponente sempre del secondo esponenziale uguale a 0 meno un ventesimo per meno 1 è un ventesimo per e alla meno t meno 3 per 3 è meno 9 ventesimi e alla meno 3 t uguale 0 ora il secondo termine a primo membro di questa equazione lo possiamo riscrivere in questo modo quindi un ventesimo e alla meno t meno 9 ventesimi per e alla meno t al cubo e questo l'ho fatto perché ora adesso ponendo e alla meno t uguale u cioè facendo un cambiamento di variabile posso riscrivere l'equazione come intanto moltiplichiamo anche per 20 in modo da eliminare i denominatori dicevo possiamo scrivere l'equazione come u meno 9 volte u al cubo uguale a 0 raccogliamo a fattor comune una u e abbiamo u che moltiplica 1 meno 9 volte u al quadrato uguale a 0 cerchiamo le soluzioni di questa equazione le soluzioni sono 3 uguale a 0 e 1 meno 9 u quadro uguale a 0 ma 1 meno 9 quadro possiamo scriverlo come 1 meno 3 u che moltiplica 1 più 3 u e questa è la scomposizione della differenza di due quadrati e ricavare u come più o meno un terzo quindi u uguale a 0 possiamo chiamarla u con 1 e u uguale più o meno un terzo u con 2 3 l'unica soluzione che ha senso tra queste tre è la un terzo e quindi scriviamo u uguale un terzo questa significa per la posizione fatta prima cioè e alla meno t uguale u significa e alla meno t uguale un terzo ora per calcolare t che è lo scopo del nostro procedimento possiamo estrarre il logaritmo da entrambe i membri e quindi il logaritmo naturale chiaramente di e alla meno t è uguale al logaritmo naturale di un terzo per una nota proprietà dei logaritmi l'esponente dell'argomento possiamo tirarlo fuori e scrivere che meno t logaritmo naturale di e che vale 1 questo è uguale al logaritmo di un terzo che possiamo approssimare a meno 1,1 possiamo moltiplicare entrambi i membri per meno 1 e ottenere che il tempo per il quale la corrente è minima è uguale a 1,1 secondi quindi molto vicino anche alla richiesta del problema del calcolo della corrente a un secondo ora sostituiamo nell'espressione della corrente e otteniamo meno un ventesimo e elevato a 1,1 col meno davanti chiaramente più tre ventesimi per e elevato a meno 3,3 questo è uguale a meno un ventesimo per 0,332 più più tre ventesimi per 0,037 uguale meno 11 milliampere ora per capire l'andamento della corrente possiamo calcolare la corrente all'istante zero più e questa è uguale a meno un ventesimo e alla zero più tre ventesimi e alla zero cioè ricordando che era 0 e 1 due ventesimi vale a dire 0,1 ampere cioè 100 milliampere quindi la corrente parte positiva 100 milliampere passa per lo zero raggiunge il suo minimo a 11 milliampere negativi poi risale e chiaramente tende a zero perché il condensatore si sta scaricando sui resistori bene andiamo a verificare il calcolo con LTSPICE apriamo un nuovo schematico costruiamo il circuito dando il valore ai componenti e scrivendo sia la condizione iniziale sul condensatore che la direttiva di simulazione attrazione ecco ho lasciato per ultimo il generatore di tensione perché qua dobbiamo scrivere la funzione esponenziale questo è un arbitrary voltage source lo stesso che abbiamo usato lo scorso video quindi ci clicchiamo sopra e scriviamo la funzione esponenziale decrescente con esponente meno t vale a dire meno time ok come transitorio ho scelto 5 secondi avviamo la simulazione affianchiamo le finestre verticalmente aggiungiamo un plot plane su quello in basso facciamo il grafico della tensione che vedete esponenziale decrescente e su quello in alto la corrente nel condensatore partiamo da 100 mA arriviamo a un secondo facciamo uno zoom dove la corrente vale 10,86 mA approssimando a 10,9 otteniamo lo stesso risultato che abbiamo nel calcolo manuale poi andiamo a vedere il minimo a un secondo e uno dove la corrente vale circa meno 11 mA quella precedente era meno 10,9 mA aggiungiamo un plot plane perché il problema ci chiedeva anche il calcolo della tensione ai capi del condensatore quindi rileviamo il potenziale del nodo A riavviamo la simulazione e andiamo a vedere cosa succede appunto a un secondo facciamo uno zoom e a un secondo la tensione vale 318 mV e questo ci conferma il calcolo che abbiamo fatto manualmente bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulle pubblicazioni dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetemi anche un like e vi ringrazio condividete i suoi social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti email, instagram, facebook grazie, un saluto a tutti e come sempre vi rimando al prossimo video grazie